Non si va succederà? Non vi l'ai nanti? Vi l'ai roma di barna, vi l'ai roma di barna Vi l'ai roma di barna, vi l'ai roma di barna Vi l'ai roma di barna, vi l'ai roma di barna Apa ini Jemueli no? Mis tätä di foto, disino di mañana CPH Mi hanggaro No? Di mana ahkur tu kisah? Ada maskurita, di Lives Pag. I ammmeno, solo nei pottini. Holosio è ilrusto, io siamo un'acqua. Ti sono, abbiamo un'acqua. Un'acqua di fuori, però non metto di fuori. Un'acqua di fuori, abbiamo un'acqua. Si, grazie. Grazie a tutti. Sono molto avviso. Allo! E abbiamo ancora un'acqua. la giagun eheh sì assicchia stagione 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 Cosa a coppionare Abis merite Amar Soli Amar Soli è ancora nyusul Siapa? Siapa? I Sosial Exponor Sooo Dooooooooooooooo Cosa, Bagaas, turun, sayang Yuk, yuk turun Bisogna, bambini Di malam quindi l'abbiamo a direzione perché abbiamo un po' di questo modo che voglio capire ci sono un po' di questo ma come il mondo quindi il suo nome è che è stato un po' di queste persone non sono un po' di questo ma non ci siamo ancora ma ci siamo ancora in tutto iscriviti Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. no 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 non 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 face ho assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buongiorno a tutti. ok, ora andiamo in questo siamo in Malino, Taman Bunga io voglio di risposta di risposta di risposta di risposta in questo risposta magari in qualche parte di risposta io ho conosciuto di risposta di risposta che ci sono 3 persone che sono stati di Lembana, di Taman Bunga, che sono stati, e questo è quello che io voglio di rispettare di questo voglio vedere il prossimo ok check it out ,, , ,, ,, ,, ,, si buono di maniera l'allocco o no le agire con le sono questo che è in particolare ho esperto questo esiste il stagione o oh oggi è iniziano il stagione il stagione l'estate c'è un'eserlo c'è un'eserlo e ma cosa è un'eserlo la foto di là la foto è un'eserlo Sì 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 io è che bene non è in modo non ci sono il tuo contatto come il tuo contatto non c'è mauniche panitia nemmiche non è un'ottima Stavniang, credi, non si sa, non si chiede Ma stagioniamo, non si stagioniamo Ma se stagioniamo, si stagioniamo, si stagioniamo Cosa? Ok siap No 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.